Nuova vita per le bandiere e gli standardi di Torino 2006, ma anche di altre manifestazioni che diventano borse, cappelli e grembiuli. Attenzione all'ambiente e ottimizzazione dei costi. Così l'idea del Comune di Torino è diventata vincente. Togliere dai magazzini centinaia di migliaia di bandiere e standardi dell'Olimpia di 2006 e delle Universia di 2007 e ridare loro vita per lo più trasformandoli in borse. Così una società specializzata ha coordinato il lavoro di ripulitura, taglio e cucio attraverso laboratori artigiani e cooperative socialmente impegnate. Il Comune ci ha consegnato 1000 metri di PVC delle grandi affissioni internazionali, delle Olimpiadi e delle Universia e circa 2000 metri quadrati di standardi. È la prima volta in Italia che un ente pubblico fa una linea con materiali di recupero. Il Comune si libera di materiale altrimenti inutilizzato, le aziende partner del progetto creano lavoro, gli utili vengono divisi e quanto guadagnato dall'amministrazione viene reinvestito per cofinanziare altri progetti legati al turismo. Abbiamo inventato e disegnato non solo borse ma anche altri oggetti d'uso come cappelli, grembiuli da cucina, piccole pochette, portaggetti e anche gli addobbi di Natale. Dal prossimo 5 dicembre le borse saranno in vendita presso gli uffici per il turismo di Piazza Castello, Porta Nuova e Caselle Aeroporto e nei bookshop dei principali musei della città.